Continua senza sosta l'azione di contrasto dell'arma dei carabinieri a ogni forma di legalità diffusa nella Locride, spesa in materia di produzione e traffico di sostanze stupefacenti e illecita detenzione di armi da fuoco e relativo munizionamento, ambiti in cui, grazie al coinvolgimento di unità speciali, sono stati conseguiti ulteriori e importanti risultati. In particolare i militari del gruppo carabinieri di Locride, supportati da personale dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, nell'ambito di un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio, hanno svolto numerose perquisizioni sia presso abitazioni che nell'ambito di fondi agricoli privati e demaniali nei comuni di Africo e Brancaleone. Le attività che hanno visto impegnati oltre 60 militari hanno consentito di rinvenire in aree demaniali diverse, tutte adiacenti a fondi di proprietà privata, ben 18 involucri di cellofan trasparenti contenenti nel complesso, quasi 9 kg di marijuana, una carabina marca Diana calibro 4.5 mm prima di matricola e una sessantina di cartucce per pistola calibro 9, il tutto ben occultato all'interno della vegetazione e financo in zone adibite al pascolo di bestiame. L'attività di contrasto si inserisce in un quadro più ampio di operazioni disposte dal comando provinciale dei carabinieri di Reggio condotte dai militari dell'arma in un contesto particolarmente difficile dove l'attività di controllo sul territorio spesso rappresenta la principale forma di prevenzione in grado di incidere direttamente sulla percezione della sicurezza dei cittadini.